...confondermi, è davvero forte. Ma perché quelli grossi e misteriosi li devi sempre prendere tu? Perché sono il protagonista e nel copione c'è scritto così. Sì, era detto che ero io il protagonista. Vabbè, io prendo quello grosso, grossissimo. Tappo! Come vi permettete di scorpiare i nostri nomi? Fai attenzione, Vegeta, vogliono confonderci le idee. Sono bravo, sarà ancora. Direi che abbiamo già parlato troppo. È l'ora dei fatti, siamo i...